Ti ha rispedito in strada? Oh, ti piacerebbe, vero? Sarei sconvolto. Olivier, se non fossi qui, chi lavorerebbe al posto tuo? I cavalli vanno strigliati, amico. Forza! Certamente, signore. Signore, signor della Serra, ferma! Gesù mio, Gesù mio, Gesù mio. Qualche problema, amico? Una lettera per il signor della Serra, è importante. Calmatevi, però. La lettera non arriverà prima al signor della Serra, se morirete di fatica. Datemela, ci penso io. Deve riceverla oggi. È molto... Molto importante, sì, l'avete già detto. Farò in modo che accada. Signor della Serra, si fermi! Peccato, amico. Dovrai fare il giro. Fate largo, via! Non credo. Che cosa? Diamine, rallenta! A quanto pare, le finiture in noce sono di gran moda. Chi guida la carrozza? Pelope, forse? Fermi! Signor della Serra! Chiedo scusa, ho sbagliato. Devo salire ancora più in alto. Non credo, non credo. C'est amusant, jusqu'à ce que quelqu'un se blesse. Sous-titrage ST' 501 Ecco-vi là. C'est amusant, c'est amusant, c'est amusant, c'est amusant. C'est amusant, c'est amusant. C'est amusant. C'est amusant, 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 c'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. Non c'è modo di rientrare Li raggiungerò a casa e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info